vero stallone questo ha seguito me come cagnolino ovunque per tutta notte diceva innamorato di me chiesto a me di sposarlo un classico di sto dio cane certo che no ma abbiamo giocato nella chardonnay room perché che si fa nella chardonnay room non cambiamo argomento adesso io ballo per lui lui stimola facciamo sesso io massaggio spalla io non sei ancora sposato anche venerdì dio cane figa nastro dio porco non te la prenderesti a te è piaciuto tanto avevi le lacrime dicevi piaciuto tanto come vuoi dire che ha pianto come un bambino era troppo sexy come si muoveva ho detto ralento sennò ti sparo tutto dentro dio cane o lo sai mio sperma ai problemi di vocabolario vuoi dire il mio sperma da dove verrebbe il tuo sperma dalle mie palle grazie a tutti grazie a tutti